Il Centro Storico di Cosenza è al centro dei nostri interessi perché i numerosi interventi di riqualificazione previsti serviranno a rilanciare soprattutto l'immagine dell'intera città. Lo ha detto il sindaco Franz Carusi in occasione della presentazione dei lavori di ristrutturazione del Teatro Rendano che inizieranno a febbraio. Lavori che saranno eseguiti grazie ad un finanziamento intercettato nell'ambito delle PNRR, un progetto già esistente che è stato trasferito poi nella misura del piano nazionale di ripresa e resilienza approvato dalla Commissione. Una procedura, ha sottolineato il sindaco, eseguita in tempi brevi per come sono per l'appunto i tempi delle PNRR, un lavoro ben eseguito dalla struttura tecnica. Siamo stati facilitati in questa iniziativa e in questo percorso dal fatto che il progetto era stato già in parte realizzato. Poi è stato adeguato a quella che era la misura del PNRR e quindi grazie a questa collaborazione sinergica con professionisti esterni e con professionisti del Comune abbiamo ottenuto un finanziamento che ci consentirà di realizzare un intervento che ridà lustro non solo alla struttura del Teatro Rendano ma tutta quell'area intorno all'Argentano che vedrà altri interventi perché è previsto anche l'intervento del CIS per il recupero della Biblioteca Civica e dell'Accademia Cosentina che già insieme all'illuminazione che è stata realizzata sulla piazza daranno lustro a tutta quell'area. Il centro storico è al centro appunto dei nostri interventi e dei nostri interessi e crediamo che questi interventi possano rilanciare l'immagine non tanto e non solo del centro storico ma di tutta la città.